E ora parliamo delle infezioni in generale, quelle soprattutto che si contraggono all'ospedale, sono al centro dei quattro giorni del forum sulla gestione del rischio in sanità in corso alla fortezza da basso a Firenze. Ce ne parla Marco Madinelli. Le infezioni sanitarie, quelle che si prendono in ospedale, dipendono da un lato dalle procedure e dall'altro dalla resistenza agli antibiotici, ci dice il professor Giorgio Tulli. Infezioni correlate al sito chirurgico, infezioni correlate ai cateteri, sia quelli endovascolari che quelli vescicali, correlate anche alla ventilazione polmonare assistita. La causa di morte più comune in seguito a infezioni grave è la sepsi. Secondo i dati regionali, in Toscana nel 2015 i ricoveri per sepsi sono stati circa 8.000 con una mortalità del 36%, una percentuale alta. E per ridurla, la regione ha stabilito la riorganizzazione dei laboratori di microbiologia, che analizzando il singolo paziente e la singola patologia, dà indicazioni sul farmaco più adatto. Careggi a Firenze, Cisanello a Pisa, Le Scotte a Siena hanno microbiologi a disposizione 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Ultimamente si sono diffuse notizie su protesi cardiache e osse nocive o cancerogene. L'unico modo per prevenirne l'impianto, ci dicono al forum sul rischio sanitario in corso a Firenze, è l'accuratezza nella scelta degli apparecchi da impiantare. Ma resta il problema delle procedure. Una volta che io acquisito delle protesi che hanno la loro sicurezza, è il modo di mettere le protesi e anche di controllare il posto operatorio. Ognuna di queste fasi infatti è a rischio di infezione.